Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, abbronzatissima, sotto i raggi del sole. Francia, ma con l'abbronzatissima, per finire un freddo, che se vuoi? Sto facendo le prove, perché tu sei benissimo, a me mi piace cantare. E l'abbiamo capito tutto, cosa vuoi cantare? Siccome devono venire, io non mi voglio presentare i preparati. E poi tu chiami tutti questi cristiani che cantano e tu che c'è una vera voce, l'abbiamo capito. Però io faccio sempre affiuntare la mano. E ti ho detto a te, allora, cerca di, tu non è che non hai, come si dice? Perché tu è bella, capito? Sì, in Santa Marta non lo so, ora si accalmata, c'è Rocca, quindi quando tu hai la pandemia, presenti da un po' il muro, e puoi stare tranquillo che non si muove neanche una foglia. A proposito, a chi la chiami, Dona Veneno? Sì, vediamo che avvene, anzi, il secondo... Ehi, a Muce Veneno, dato che siamo ritornati nel 218, a Muce Traste dice, quanti siete? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Un fiorino! Ecco, bravo, bravo. E non ci rispondono, ma cominciano a rientrare. Quanti siete? Cosa vuoi dire? Un fiorino! Bravo Francesco, bravo. Ma papà... Come tu ti stai preparando per gli ospiti? Sì, sì, mi sto preparando, gli ho chiamati, mi hanno detto che vieni, insomma... Quindi ce li abbiamo? Ce li abbiamo, per lunedì ce li abbiamo. Quindi possiamo andare avanti, perché la Francia ha un'estate per un'istata a candela, Sì, allora, venite a pensare a me, tu venite a pensare a me, allora... E dove venite? E come hai detto a come? Allora... Dacci un'estate, allora... Allora, tu innanzitutto schiavisci la voce, ma da dove è ancora mai ero? E mi faccio vedere, vai! Allora, hai capito? Ehm... 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 affondamento a lunedì ore 19 con edicola, l'ho appuntata ma vedi trentesima se non sbaglio 29esima, 29esima o trentesima, 29esima e dicola l'ho appuntata, ci vediamo